Ciao amici di Youtube, buongiorno a tutti voi, allora amici io questa mattina vi ho fatto un video della vincita che si doveva giocare la Roma, quota 3.57 per domani sera, ma per colpa del coronavirus è stata rinviata la Roma, la quota era 3.57 e domani sera non gioca più, 12.03.2020, allora è annullata la schedina, adesso quel video viene eliminato, fra un po', e pazienza, giocatevi solo il numero all'8, giocatevi solo allora a questo punto, questa settimana solo all'8, il numero 14 sulla nazionale e il numero 22 su Bari, le strati non fatelo più come ambo, giocatevi solo questi due strati, il numero 22 a Bari e il numero 14 sulla nazionale, buona forza a tutti voi, con le partite ci dobbiamo fermarci, che non si sta capendo più nulla, stanno bloccando tutti i campionati, ok? Va bene così, lo Stato sta vincendo, va bene, grazie Stato, grazie, 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 grazie governo italiano e cinese, grazie, grazie, non giochiamo più, ok? Spariamo i soldi, ok? Giochiamo sull'8, ok? Ma devo parlare così, perché devo attenarmi su YouTube, non posso bilanciare, quello dico sottovoce, ho detto tutto e non lo posso dire alta voce, ma avete capito, il governo può stare dove sta e noi cittadini ci stiamo svegliando contro il governo. bacioni e buona fortuna del numero 22 su Bari e il numero 14 su nazionale. Ciao, bacioni e non ci arrendiamo, forza, 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 vinceremo noi, forza di prima, ritorniamo, ok? Ciao, 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 ciao.